Questa rassegna di moda ecclesiastica porge il benvenuto a sua eminenza e a tutti i suoi illustrissimi ospiti. Grazie a tutti. Modello numero uno, pazienza e raso nero su modello classico per suori novizie. Lo stesso modello è concesso a realizzarlo anche con altro tipo di tessuto, quale la seta o la lana per le differenti stagioni. Gli stivaletti sono di cuoio e pelle, nei due colori nero e blu marine, per climi molto rigidi. Modello numero due, torterelli baculè, fornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti difettosi di aereazione. Modello numero tre, petite sœur di la tentazione di purgatoire. E il mondo che deve seguire la chiesa non è il contrario. Passiamo a modelli sportivi. O paradis, toujours più vite. E il mondo che deve seguire la chiesa. Per i parroci di campagna, ecco il modello numero sei. Variazioni sacristanesche per cerimonie di prima classe. E il mondo che deve seguire la chiesa. I paramenti sacerdotali hanno anch'essi subito una certa evoluzione Amitto, piviale, cotta, pianeta e casula Sono oggi prodotti in tessuti di incomparabile leggerezza E nei colori più smaglianti che non si stigono Grazie a tutti 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 Grazie a tutti